Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo. Diamo insieme uno sguardo al tempo previsto per la nuova settimana a partire dal contesto europeo. Basta pressione nell'Europa dell'Est, area più fredda, mentre situazione completamente diversa nell'Europa occidentale grazie all'alta pressione che ha garanzia di giornate stabili, asciutte e con tanto sole. Sarà una costante anche la presenza della nebbia in Valpadana e nelle valli interne del centro. In tutto questo le temperature sono in rialzo, i valori diurni saranno buoni, superiori ai 20 gradi su tutta Italia, soprattutto in Liguria, sulle regioni tirreniche al sud e sull'arco alpino dove i valori sono completamente estivi, sono 14-15 gradi a 1500-2000 metri. Per il momento la situazione è questa, per gli altri aggiornamenti o le informazioni in tempo reale vi invitiamo a consultare la nuova app di Trebimeteo per iOS e Android.